E allora abbiamo visto le ultime e la pagina di sport, continuiamo i nostri dialoghi al tavolo del liberamento e osteria e ringraziamo di essere qui Marco Pierini. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Allora, Marco Pierini è direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, nominato da circa un paio di mesi, è tra i primi 20 direttori di musei autonomi, cioè di quelli che i conti se li fanno da sé. C'è un consiglio di amministrazione, sono i 20 musei più importanti d'Italia. Marco Pierini, come dire, è senese, ha diretto le papesse e poi è partito per altri lidi, è così? È così, è così, continuo a vivere a Siena però, visto che Perugia è vicina, ho deciso di non recidere il cordone ombelicale e è un'esperienza questa che comunque nasce dall'esperienza senese, perché credo che l'esperienza nostra, di tutto lo staff delle papesse, poi sia stata la base sulla quale le nostre e anche le rispettive carriere sono costruite. Quindi è stata un'esperienza anche formativa per noi, oltre che spero per la città. Ecco, su queste papesse, ricorda ai tempi delle elezioni, ci fu una polemia feroce fra Valentini e te, insomma, eccetera, ma la ridiciamo il più obiettivamente possibile, anche se, come dire, a uno parte in casa, non si dovrebbe mai fare una domanda così, ma crediamo alla tua oggettività. Perché morirono le papesse? Dunque, la polemica premetto, ci siamo chiariti con il sindaco, era stato mal informato, per cui, come lui stesso ha ammesso, e quindi è finita lì, nello spazio di un mattino, per fortuna, come tutte le polemiche sciocche che ogni tanto nascono nel dibattito politico. L'oggettiva ricostruzione della questione papesse in realtà è difficile, non solo perché sono coinvolto, ma perché è stata un po' fumosa. Io dico sempre, preferisco un'amministrazione che prende scelte vere, dure, coraggiose, anche sbagliate, si chiude, che invece decisioni, che non sono decisioni vere, fluide, non ci hanno chiuso, ci hanno spostato al Santa Maria della Scala, dove poi si sono ridotti i fondi, si è ridotto il personale. Quando sono andato via io eravamo in tre, che facevamo un lavoro di undici di prima. È chiaro che è una volontà di far esaurire un'esperienza, ma non è una scelta, perché poi sulle scelte si può discutere, invece quando tutto diventa residuale, diventa marginale, alla fine muore l'esperienza senza che si sia presa una vera decisione. Non so da cosa sia nata. Quello che è venuto fuori... Mancanza di soldi, alla fine? No, mancanza di soldi no, perché almeno come Dipartimento dentro il Santa Maria della Scala aveva un costo, l'esperienza del contemporaneo è più che sostenibile. Faccio un solo esempio. Chiaro, certe mostre non si sarebbero potute fare più, ma la mostra di Francesca Woodman, che è stata una delle più importanti, una delle più visitate, più che a Siena, a Milano, dove dopo l'abbiamo venduta, è stata coprodotta con un museo spagnolo. Venduta a Milano, costo per il Comune di Siena, euro zero. Quindi, tutto sommato, voglio dire, si può anche ragionare in termini di costi bassi e di risultati medio-medio-alti. Poi, chiaramente, l'esperienza delle papesse prevedeva un affitto di un palazzo importante, uno staff importante, è chiaro che aveva un costo e si poteva e doveva pensare forse a una riduzione, visti i tempi del paese, del mondo e della città, direi. Ecco, ma come rivivi, avendo vissuto quell'esperienza di arte contemporanea stanziale, diciamo, usiamo questo brutto termine, stanziale, a Siena, adesso, la scelta di Siena di concludere l'anno da capitale italiana della cultura nel segno dell'arte contemporanea, dallo smile di Klett, all'estate dell'artista cinese, alla cracking art, io ho molti dubbi, ma insomma, tu sei l'esperto. Ma, premesso che a Siena ci vivo, ma ci vengo la sera, non ho partecipato nemmeno al progetto, non ho seguito il progetto, diciamo, che sta dietro, quindi ne so poco, ma ho visto. Francamente non mi convince, non mi convince perché non prende nulla dell'esperienza buona che avevamo fatto, con degli errori, e quando dico buona non dico che era il miglior museo del mondo, però, ad esempio, noi abbiamo sempre detto, e quando dico noi dico io e tutto lo staff, perché abbiamo sempre lavorato di concerto, penso a Lorenzo Fusi che è andato alla Biennale di Liverpool dopo aver lavorato alle papesse, abbiamo sempre deciso di non toccare la città perché è un contesto storico talmente perfetto, talmente dato, che qualunque intervento suona sempre falso, suona sempre discutibile. Noi abbiamo fatto eventi di un giorno al limite, oppure ci siamo limitati a agire sui mezzi di comunicazione, sugli autobus, però l'arte la facevamo dentro, e non perché non ci sia la necessità anche qui di un'arte ambientale, di un'arte che rifletta con il contesto architettonico, ma penso che il centro storico non sia il posto giusto, sono le periferie dove l'artista contemporaneo ha modo di confrontarsi davvero con innanzitutto le periferie dove la gente vive, in gran parte, e poi è dove davvero c'è bisogno di arte, c'è bisogno di incidere, qui di che c'è bisogno voglio dire, è un contesto che è quasi intangibile. Le scelte poi sono scelte francamente un po' di secondo profilo, il Suclette molto semplicemente, io credo che sia un simpatico personaggio che finché ha fatto il birichino è stato appunto simpatico, con i cartelli stradali eccetera, quando si dà una commessa, come dire a un bambino, un bambino mariuolo diceva bene, pesta pure i piedi nella pozzanghera, ma non ha senso, lo stesso bambino dispettoso si diverte quando lo fa di nascosto dalla mamma, e quindi credo che sia un intervento modestissimo, anzi infelice, come del resto era successo a Prato con la scultura di Mur, con grandi polemiche giustamente che hanno coinvolto anche il centro d'arte contemporanea Luigi Pecci che si è molto arrabbiato per questa sciocca intrusione in uno dei monumenti più importanti che è a Prato. Esatto, cioè all'applicazione di Clet sulla scultura di Mur che invece ha un suo senso in quella città. Infatti, infatti. No, fra l'altro, ecco, riflettevo mentre parlavi sul tema delle periferie, per esempio a me, ripeto, da osservatore, non da esperto minimamente, io ti dico le cose che mi sono piaciute, quelle cinque figure, diciamo la scultura dell'artista cinese su davanti al Sant'Amena della Scala che esprime a mio parere la gioia di vivere, il sorriso, la felicità, l'altra splendida scultura all'Orto dei Pecci che è uno squarcio suggestivo, quantomeno, le cose in pescaia e le cose a San Miniato, ecco a mio parere, e quindi riflettevo sul tema delle periferie, In effetti è così, insomma, al di là di alcune zone che hai nominato, alcune sono perfette come San Miniato, altre forse meno, Piazza del Duomo, però, ecco sì, respirano le opere contemporanee quando si trovano in contesti dove non sono in competizione, quindi qui la competizione ammazzerebbe chiunque, infatti gli artisti più importanti non ci verrebbero mai, nessuno avrebbe l'arroganza di dire porto una scultura in Piazza del Duomo, così, magari si possono fare interventi diversi come avevamo fatto con la Holzer che aveva fatto la proiezione e lì mi ricordo, fu un intervento, non era una mostra, molto bello, ci fu polemica perché avevamo fatto spengere le luci che illuminavano la cattedrale, ora io a distanza di anni poi ripensavo a quanto era bella la Piazza del Duomo senza le luci perché le luci artificiali non fanno un regalo ai nostri monumenti, era bellissima, una piazza tra l'altro purtroppo deserta, di notte, ma che ha un fascino incredibile anche e soprattutto quando non è illuminata artificialmente. Ecco, Santa Maria della Scala, allora c'è un bando, in sostanza, chiariscici un po' il tema del bando perché mi sembra che resti comunque il cordone umbilicale con il comune, con una figura funzionariale sopra, un direttore sotto o accanto, non ho ben capito, insomma, che sta succedendo, che cosa è che può accadere? Dunque, non è mica facile, non è mica facile anche rispondere perché neanch'io l'ho capito bene. Dalla lettura del bando si capiscono alcune cose, che la figura che si sceglierà più che la figura destinata a rilanciare il Santa Maria della Scala è una figura destinata a transitare in una nuova fase da cui poi dovrebbe partire il rilancio, quindi di nuovo una via di mezzo, tant'è che sarà un dirigente del comune. Questo scelto con una legge, con l'articolo 110, non voglio entrare nei tecnicismi, dico solo, che è legato al mandato del sindaco, che vuol dire che dovesse per qualche motivo cadere la giunta e il direttore cade. Ora, può uno pensare a una programmazione a lunga scadenza, a un passaggio delicato, anche di forma giuridica, scritto pure non nel bando, ma credo nella delibera di giunta che lo precede, con una spada di Damor, che è così due anni soli e addirittura legato al mandato della politica. Poi il bando... Poi soprattutto mi chiedo quali intelligenze di settore, esperti mondiali, possano partecipare ad un bando che ha questa tempistica e queste caratteristiche? Io temo ben pochi, chi è a spasso per qualche motivo, chi magari ha concluso un'esperienza vicino alla pensione, oppure chi è magari nello Stato e può chiedere un distacco, può chiedere un'aspettativa per due anni, magari prima di andare in pensione, ma professionisti che lavorano di questo non si mettono in gioco così, è difficile non rischiare tutto, uno lascia un museo magari che sta dirigendo per due anni e poi nemmeno tanto sicuri e con una prospettiva anche incerta sul futuro del museo, che io purtroppo sempre più vedo come un museo che dovrebbe diventare una volta inglobato, anzi una volta deciso definitivamente di inglobare la Pinacoteca, un museo statale. Quanti esempi abbiamo di edifici comunali dove dentro c'è un museo statale? Io ci lavoro, perché io lavoro a Palazzo dei Priori, che è anche sede del comune di Perugia e c'è il più importante museo della regione dentro, con un rapporto molto stretto di scambio anche culturale, di programmazione, non è che una volta che lo Stato se lo prende per la città è finita, ma come può una città che ha anche risorse sempre più marginali, diciamo così, gestire un museo così grande che ha un'importanza, una volta che ci sarà la Pinacoteca, se ci sarà mai, sarà un museo straordinario. Come si farà a gestirlo da soli? Allora, ci sembra il modo giusto di concludere questa chiacchierata con Marco Pierino, Pierini con un dubbio, un punto interrogativo, grazie di essere stato con noi. Grazie, grazie a te. E allora, noi andiamo a vedere adesso un servizio, perché il prossimo fine settimana sarà un fine settimana all'insegna del trekking urbano. Come coniugare lo sport, l'arte, la cultura, il buon cibo, insomma, il corpo e la mente? Camminare per le nostre città d'arte. L'idea è venuta nel 2002 al comune di Siena con il trekking urbano, camminare appunto in città. Un'idea che già due anni dopo era esportata praticamente in tutta Italia. Si celebra la dodicesima giornata del trekking urbano in 50 città d'Italia. In Toscana sono Arezzo, Grosseto, Lucca, Pistoia, ma anche Asciano, Murlo, Manciano, in provincia di Grosseto e naturalmente Siena. Sì, siamo a capofila di ben 50 città a livello nazionale. Quest'anno abbiamo battuto ogni record di partecipazione. Saranno praticamente percorsi all'interno del centro storico il 31 ottobre. Siena, essendo, diciamo, l'ideatrice del progetto, addirittura due giornate dedicate a questo. Noi abbiamo pensato di costruire un fine settimana interamente dedicato a quello che è il tema nazionale. Noi lanciamo un tema a tutte le città ed ogni città costruisce un percorso coerente con il tema che diamo. Quest'anno naturalmente è quello di Expo e abbiamo ricevuto anche il patrocino di Expo e a Siena l'abbiamo declinato in un percorso della giornata nazionale che partirà alle 3 e mezza da Piazza del Campo gratuito dove il filo conduttore sono le opere d'arte che però si legano al tema del cibo quindi dalle stoviglie ai cibi che vengono riproposti all'interno delle opere d'arte in un percorso però di trekking la particolarità del trekking urbano è proprio che abbiamo portato all'interno delle città d'arte o dei borghi quello che abitualmente si fa in campagna in montagna allora con l'assessore Paolo Mazzini e con il comandante Luca Nassi dei vici del fuoco la torre del Mangio oggetto di un'esercitazione e l'evacuazione perché può capitare un signore magari un po' ingombrante un po' su con il peso eccetera eccetera in qualche modo si senta male sulla sommità della torre e come si fa a far passare una barella i tempi eccetera e allora la si fa in un altro modo si fa calare la barella dall'alto questo era comandante in senso si in effetti è un problema diciamo legato all'unicità del luogo e al come dire la difficoltà di accedere c'è la possibilità in effetti di seguire una procedura anche all'interno della torre quindi c'è la possibilità di portare soccorso anche calando la persona all'interno però l'alternativa è quella di uscire diciamo esternamente e questo è un esempio secondo me molto importante di affrontare in maniera pragmatica un problema reale lavorando insieme con il comune che ci ha fra l'altro fornito le attrezzature che noi non avevamo quindi una sinergia importante ci permette come dire di dare un servizio con del personale che ha un livello eccellente di formazione per risolvere speriamo un problema che mai si verificherà ecco assessore Mazzini insomma la torre del mangia è come dire una cosa difficile dal punto di vista dell'approccio in termini di sicurezza ma la torre del mangia e questa esercitazione di oggi secondo me sono l'esemplificazione che una città come la nostra che ha la fortuna di avere un patrimonio storico artistico di valore immenso si deve porre nella maniera giusta e appunto con la collaborazione delle persone competenti come nel nostro caso vigili del fuoco si deve porre nell'ottica di sperimentare soluzioni diciamo non comuni tra virgolette per la sicurezza di questi luoghi per consentire che cittadini e visitatori più o meno occasionali possano fruire della bellezza di questi edifici di questi monumenti e di questi luoghi in piena sicurezza oggi diciamo l'esercitazione sulla torre del mangia è diciamo sia esemplare anche perché sotto gli occhi di tutti però noi affrontiamo con lo stesso piglio diciamo così e con le medesime fruttuose collaborazioni anche altri edifici e altri luoghi significativi come da un lato per esempio il Santa Maria della Scala dall'altro i bottini che presentano diciamo delle caratteristiche un po' uniche al mondo e che quindi vanno affrontati rispettando questa unicità e inventando soluzioni che sembrano percorribili nel totale rispetto della sicurezza Comandante riassumiamo i numeri uomini i mezzi in questa esercitazione ma dunque oggi chiaramente è una prova è in effetti una delle prime prove e quindi siamo diciamo con 15 personale SAF è un personale che ha una specializzazione in tecniche speleo alpinistiche fluviali quindi lavorano diciamo in sicurezza legati diciamo a delle corde e è una specializzazione sempre più importante per noi è stata molto utilizzata anche in occasione dei terremoti e anche nel diciamo nel lavoro nostro di tutti i giorni perché anche per noi ovviamente la sicurezza dell'operatore è assolutamente primaria siamo comunque in grado di fornire il servizio tutti i giorni quindi questo porterà una procedura proprio di attivazione congiunta ancora una volta con il comune che comunicherà al comando provinciale un messaggio codificato per permettere a noi di capire subito immediatamente qual è l'intervento da porre e mandare la squadra che è sufficiente per fare questo tipo di salvataggio bene concludiamo è il 24 di ottobre quindi abbiamo qui l'assessore Paolo Mazzini che ci fa fare uno scoop e quindi ci anticipa le decisioni in materia di giustizia paliesca preferirei buttarmi dalla torre senza le corde solo i tempi quando e diciamo i tempi sono maturi e quindi penso insomma entro la fine del mese di ottobre ci si dovrebbe essere grazie bene bene dopo l'evacuazione per finta per esercitazione dalla torre del Mangia passiamo alle nostre rubriche di successo e quindi lingua senese di Simonetta Losi le parole sono importanti di Francesco Ricci e il weekend a sorpresa sempre con tante informazioni e notizie di Roberto Guigiani Oggi parliamo della caccia dopo il periodo delle prove dei cani si aprono le cacce la vigilia dell'apertura è un momento molto atteso da ogni cacciatore e è anche abbastanza denso di emozioni ci si alza all'alba tutto pronto fucile ingrassato vestiti pronti stivali tegamino porta pranzi già sistemati mai augurare a un cacciatore buona caccia si va per il più classico in bocca al lupo che si riferisce a tempi antichi in cui veramente i cacciatori andavano a stanare e a cacciare il lupo l'augurio era quello di incontrare il lupo incontrarlo molto da vicino appunto arrivare in bocca al lupo e la risposta è quella classica crepi il lupo cioè il cacciatore doveva riportare la vittoria e anche la pelle a casa la sua e quella del lupo molte sono le parole e le espressioni specifiche legate al mondo della caccia e dei cacciatori dalla ferma del cane che punta il selvatico all'abbaio a fermo quando il selvatico è appunto fermo sulla difensiva sulla lestra la lestra il covo il rifugio del cinghiale è il luogo dove l'animale si riposa durante il giorno ed è anche più in generale il covo della selvaggina d'appelo in genere i cacciatori spesso fanno un capanno e si mettono a uccellare cioè a richiamare gli uccelli per poi tirarli a pallini un tipico uccello da richiamo è il tordo per catturare l'attenzione dei volatili si usa anche uno specchietto è il reale e metaforico specchietto per le allodole oppure si utilizzavano le allodole vive i colombi e la scivetta da qui deriva la definizione di scivetta per una donna che si cura molto nel vestire e nel truccarsi che si atteggia anche in un certo modo seduttivo per richiamare l'attenzione degli uomini in mancanza di un volatile da richiamo si può usare un chioccolo il chioccolo è un tipo di fischio che riproduce il verso degli uccelli ce ne sono di vari tipi a seconda della specie per la quale si va a chioccolare la selvaggina cacciata viene riposta nella sarga che è una tasca posteriore della giubba del cacciatore sarga è una parola spagnola che significa vetrice la vetrice è un salice dai rami flessibili un vimine con il quale si intrecciano ceste e proprio una cesta doveva essere probabilmente la sarga prima di diventare una tasca posteriore della giubba un tipo di caccia particolare che segue un preciso rituale è la caccia al cinghiale con la posta a terra o a palchetto la posta estratta a sorte è il luogo dove il cacciatore aspetta il cinghiale e questo è il significato di fare la posta dalla caccia al cinghiale deriva anche il modo di dire mettere i cani al bosco cioè attivare un processo mettere la carne al fuoco i cani seguono l'usta termine antico che indica l'odore lasciato dal passaggio dell'animale selvatico dalla ricerca della preda condotta dai cani con sonori annusamenti si ha anche il verbo ustolare persone che sono molto arrabbiate e che urlano tutte insieme fanno una grande canizza il termine è chiaramente derivato da cani e proprio canizza si riferisce al lavoro che fanno i cani quando sono stati messi al bosco per stanare il cinghiale derivano ancora da cane termini come canaio che si riferisce sia alla persona che ha i cani sia a uno stato di grande confusione la canata cioè la brontolata e accanirsi che significa attaccare qualcuno ripetutamente proprio come fa il cane stanato il cinghiale parte la palla di fuscile il cacciatore con la mira migliore nell'uccidere la preda mormorerà viva Maria forse un'eco lontanissima dei moti anti-giacobini del 1799 ma questa resta solo un'ipotesi da verificare buon pomeriggio era il 1957 quando per Paolo Pasolini allora poco più che 35enne pubblicò le ceneri di Gramsci costituite da 11 poemetti e che rappresentano una delle espressioni poetiche una delle espressioni liriche sicuramente più importanti di tutta quanta la letteratura italiana del secondo novecento nelle cenere di Gramsci per Paolo Pasolini riesce a raggiungere un magistrale equilibrio tra una poesia che attesta testimonia rappresenta la realtà esterna al soggetto in particolar modo l'Italia e la capitale Roma negli anni del boom economico dall'altra è anche una poesia che però esprime i tormenti delle contraddizioni di Pierpaolo Pasolini la lirica che andiamo a leggere con questo memorabile incipit è il pianto della scavatrice che dà conto dell'impatto di Pierpaolo Pasolini con Roma stupende misera città e con quel sottoproletariato urbano che il poeta interpreta come autenticità come violenza come possibile alternativa al corrotto mondo borghese solo l'amare solo il conoscere conta non l'aver amato non l'aver conosciuto d'angoscia il vivere di un consumato amore l'anima non cresce più ecco nel calore incantato della notte che piena quaggiù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci e che già ancora di mille vite disamore mistero e miseria dei sensi mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione di esistere annoiato stanco rincaso per neri piazzali di mercati tristi strade intorno al porto fluviale tra le baracche e magazzini misti agli ultimi prati lì mortale il silenzio ma giù a Viale Marconi alla stazione di Trastevere appare ancora dolce la sera ai loro rioni alle loro borgate tornano su motori leggeri in tuto a quei calzoni di lavoro ma spinti da un festivo ardore i giovani coi compagni sui sellini ridenti sporchi gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci alte nella notte quella ai tavolini di locale ancora lucenti e semivuoti stupende e misera città che mi ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre come andare duri e pronti nella ressa delle strade rivolgersi a un altro uomo senza tremare non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate a difendermi a offendere ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto che non mi sono fraterne eppure sono fratelli proprio nell'avere passioni di uomini che allegri inconsci interi vivono di esperienze ignote a me stupende e misera città che mi ha fatto fare esperienza di quella vita ignota fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo una luna morente nel silenzio che di lei vive sbianca tra violenti ardori che miseramente sulla terra muta di vita quei bei viali le vecchie viuzze senza ardalluce abbagliano in tutto il mondo le riflette lassù un po' di calda nuvolaglia è la notte più bella dell'estate trastevere in un odor di paglia di vecchie stalle di svuotate osterie non dorme ancora gli angoli bui le pareti placide risuonano di incantati rumori uomini e ragazzi se ne tornano a casa sotto festoni di luce ormai sole verso i loro vicoli che intasano buia e mondizia con quel passo blando da cui più l'anima era invasa quando veramente amavo quando veramente volevo capire e come allora scompaiono cantando questo è l'ultimo fine settimana che abbiamo a disposizione per vedere il pavimento del Duomo di Siena un grande capolavoro di marmo la cui bellezza la cui fama ha attraversato i secoli e che giustamente per preservarne l'integrità viene mostrato al pubblico solo per un periodo molto breve ogni anno quest'anno dal 18 di agosto fino al 27 di ottobre se andate a vedere il pavimento del Duomo di Siena vi suggerisco senz'altro poi all'uscita dalla cattedrale di scendere le scale attraversare la via francigena e andare a vedere anche l'antico ospedale del Santa Maria della Scala con il ciclo di affreschi della Sala del Pellegrinaio tanti percorsi museali e in questi giorni anche le mostre di Siena Contemporanea Siena Capitale Italiana della Cultura 2015 ma questo è anche il fine settimana di una delle principali manifestazioni che abbiamo nel nostro territorio a Montalcino c'è la Sagra del Tordo domani pomeriggio corteo con oltre 150 figuranti in costume e poi il torneo di tiro con l'arco su bersalli a sagoma di cinghiale che vengono messi prima a 25 e poi a 40 metri fra i quattro quartieri della città una rivalità vera una passione sincera e al di là dell'aspetto strettamente agonistico la possibilità per ognuno di voi di apprezzare quanto di meglio Montalcino può offrire in termini di enogastronomia e in termini di bellezze culturali artistiche ambientali e paesaggistiche introduco anche questa settimana una novità nella rubrica andiamo oltre i confini della provincia di Siena sia pure di pochi chilometri in provincia di Pisa a Volterra perché c'è la 18esima edizione di Volterra Gusto questo fine settimana e anche il prossimo ma prima di andare a Volterra vi do un suggerimento andate a Colle Valdelsa a Piazza Arnolfo salite a Colle Alta e poi percorrete la strada regionale 68 una delle strade belle della nostra provincia con un paesaggio che cambia veramente ad ogni curva e poi salendo verso Volterra la possibilità di ammirare uno degli anelli rossi di Mauro Staccioli dicevo Volterra Gusto è la rassegna di quanto di meglio c'è in termini di prodotti tipici in questa stagione e quanto di meglio la cucina toscana può offrire appunto durante tutto l'anno ma adesso con i prodotti autunnali ma Volterra Gusto è soprattutto il momento di inizio della stagione del tartufo bianco di cui avremo modo di parlare poi nelle prossime settimane bene si conclude qui di sabato il nostro rotocalco settimanale un buon weekend a tutti e noi torniamo come sempre di sabato grazie a chi ci ha seguito buona giornata L'akka 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 Grazie a tutti.